Tutto quasi, non solo quando noi abbiamo vinto il Scudetto, tutto, questo erano veramente quattro anni all'Inter, questo è il mio cuore. Nella stagione dei record è stato un campionato incredibile contro degli avversari, Maradona, Baste, insomma, un campionato fortissimo, è una squadra che ha distrutto tutti. Qual è stato il segreto di quell'anno? Cos'è scoccato? No, Inter ha vinto, io penso, dieci anni, era Inter senza Scudetto e poi noi siamo arrivati, anche tanti altri giocatori italiani, Bianchi o Berti. Grazie